Sfratto esecutivo per ormai ex assessore regionale Donato Di Matteo che questa mattina ha trovato il suo ufficio chiuso a chiave nelle stanze al quarto piano del palazzo della regione in piazza Unione a Pescara. Lo scontro con il governatore D'Alfonso ormai è a tutto campo. L'idiglio per la verità non ha mai spiccato il volo ma ora dopo l'uscita di Di Matteo dal PD e dopo il voto del 4 marzo si è arrivati veramente ai ferricorti. D'Alfonso interrogato sulla questione ha risposto fingendo indifferenza. Sulla protesta di Di Matteo cosa dice? Non la conosco mi informerò. Prima però aveva fatto circolare tra i cronisti una nota a firma del suo segretario Enzo Del Vecchio in cui si motiva lo sfratto di Di Matteo con l'imminente necessità di dover disporre della stanza da parte della presidenza della regione. Di Matteo non ci sta e spara alzo zero contro il presidente della regione. No è una sorpresa gravissima che rasenta un reato di sequestro di atti personali. All'improvviso mi hanno detto il presidente è venuto personalmente a prendere i chiavi chiudendo le stanze del mio ufficio. Io ho minacciato di chiamare i carabinieri il collaboratore di D'Alfonso il quale ha provveduto in breve a breve tempo a far venire le persone qui a aprire gli uffici altrimenti chiamò i carabinieri. Va detto che quattro cinque giorni fa tre quattro giorni fa avevo concordato sempre con Del Vecchio il fatto che per questa sera io avrei tolto i materiali in quanto io non sono più assessore quindi mi dislocavo al quinto piano e c'era un'intesa verbale con lui. Questo atto è segno di una persona che il presidente che è tornato da Roma e la prima cosa che fa stamattina è per se a prendere i chiavi. C'è qualcosa che non va in questa persona. Non so chi glielo possa dire, chi possa dire a questa persona di fermarsi per il bene suo della regione Abruzzo, del centro-sinistra e soprattutto dei cittadini di questa bellissima regione. Lei ora cosa farà? A parte il fatto di dover traslocare e come vediamo ci sono già gli scatoloni pronti. Ma io ho messo questo manifestino che è simpatico perché io sono stato sfrattato dal proprietario della regione Abruzzo perché secondo me lui ha concepito questo ente come sua proprietà e chiedo quindi all'ater di Pescara che ultimamente sono state rifatte le nomine di darmi una struttura dove potervi allocare. Il prossimo atto sarà che io insieme a chiunque voterò la decadenza di questa persona che non può giocare con le istituzioni, non doveva candidarsi al Senato perché era presidente della regione, ha voluto fare questo adesso deve scegliere se fare il senatore o il presidente della giunta regionale.